Le operazioni che si chiudono sono sempre quelle che si possono chiudere al momento, quindi le priorità sono uguali, non c'è una cosa da fare prima o una cosa da fare dopo. L'importante è fare poi l'organico in modo tale che si mette in condizione l'allenatore di lavorare in maniera efficiente già dai primi giorni di ritiro. I giocatori finché sono nell'organico della società sono un patrimonio, vanno rispettati e quindi le cose interne le vedremo direttamente con i diretti interessati. Sicuramente qualcosa cambieremo ma dire oggi che Tizio piuttosto che Caio andrà via non è secondo me giusto, sarebbe offensivo nei confronti del tesserato e sarebbe anche controproducente per la società. Noi dobbiamo ragionare da Catanzaro, da società che deve avere la sua giusta importanza e deve essere rispettata. L'importante è che ci sia gente che sudi la maglia e che venga qui sapendo che questa è una maglia gloriosa. Questa è una società che ha dei trascorsi gloriosi e deve tornare ad essere una società e una squadra importante, facendo i passi un po' alla volta. Alla sua buon passo per la Cineus 24. Alla sua buon passo per la Cineus 24.